Okinawa a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans signori e quest'oggi come potete vedere dai depositi ultrapieni siamo nel quarto account per fare uno spendi pazzo, spendi tutto, spendi milioncini ma prima di iniziare voglio ricordarvi che se volete supportare il canale finalmente signori abbiamo sbloccato gli abbonamenti del canale quindi vi basterà andare su Youtube, cercare Ciris e cliccare su abbonati ovviamente ci sono vari livelli di abbonamento tra cui Okinawa Basic, Okinawa Super, Okinawa Master e Okinawa Supremo che è praticamente l'abbonamento finale signori ogni livellino avrà le sue ricompense tra cui andiamo a vedere Okinawa Basic avrete un bello in fedeltà accanto al vostro nome molto molto carino delle emoji personalizzate da utilizzare magari nelle live che faremo insieme aggiornamenti di foto e stato, risposta prioritaria ai commenti e soprattutto un Town Hall Review che è molto molto interessante con Okinawa Super avrete tutte le ricompense precedenti più l'accesso in anteprima ai nuovi video signori che significa che se io vado a programmare un video che uscirà magari tra un giorno o tra due giorni voi lo potete vedere in accesso anticipato è molto molto interessante ringraziamenti agli abbonati e ovviamente collegamento con i vari social media con Okinawa Master avrete sempre le ricompense precedenti più la possibilità di giocare insieme a me registrare un video insieme se avete un'idea interessante e soprattutto dei video riservati soltanto a voi che nessun altro potrà mai vedere se non voi che vi siete abbonati a questo livello con Okinawa Supremo oltre a tutte le ricompense precedenti avrete in più anche il gruppo Whatsapp direttamente con me dove possiamo parlare tutti i giorni quello che volete di Clash of Clans di varie cose quindi mi raccomando signori se volete supportare il canale e aiutarmi un pochettino non vi resta di cliccare su abbonati e scegliere uno dei livelli che vi piace di più inoltre voglio invitarvi a condividere il video con i vostri amici importantissimi signori perché più stiamo e meglio è soprattutto ad iscrivervi al canale perché ho visto che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti a voi non costa nulla a me fate un piacere enorme immenso se attivate anche la campanellina rimanete sempre aggiornati su tutti i video che vado a pubblicare regolarmente dal martedì al sabato tutti i giorni 14 e 30 puntuali sul canale mi raccomando signori mi raccomando ma passiamo subito al video di quest'oggi abbiamo i depositini ultra ultra belli pieni e signore abbiamo anche qualche altra risorsina qui all'interno della tesoreria che comunque fa sempre bene ma andiamo a vedere come al solito innanzitutto gli artefatti che possiamo utilizzare abbiamo un martellino delle costruzioni molto molto interessante una runettina dell'elisire una runettina dell'elisire nero e 5 anellini che comunque schifo non ce fanno tra l'altro ci abbiamo anche 3 pozioni del costruttore che poi possiamo andare anche a inserire a utilizzare successivamente ovviamente signori come iniziamo come al solito andiamo a controllare un pochettino quali sono i miglioramenti da poter fare che ci costano un pochettino di meno per poterne mettere di più ne abbiamo bene 5 da poter mettere direi che farci i primi cannoni che sono al che costano 4 milioni e 800 mila al 17 ci iniziamo a portare al 18 e direi che sono abbastanza interessevoli quindi iniziamo subitissimo a metterne già due belli belli così prepotenti attenzione utilizziamo prima l'elisire e poi controlliamo un pochettino tutto il restante cosa ci serve nel laboratorio soprattutto signori soprattutto a noi nel laboratorio ci servono magari qualche troppettina nera che potremmo iniziare a tirare un pochettino su tipo anche i domatori o anche i sgheri in realtà quelle principali che noi andiamo a utilizzare fondamentalmente signori ce le abbiamo già tirate un pochettino su magari potremmo andarci a mettere però la casermina volendo la casermina volante che potrebbe essere molto molto interessevole e ce la portiamo a livello 4 la lasciamo fare per 6 giorni non è un problema anzi abbiamo addirittura anche la pochettina del laboratorio che signori mazza quanti ce ne abbiamo mazza ce ne abbiamo 5 il pieno le utilizziamo tutte e 5 così direi di Cristo spregamo un sacco dei oretti risparmiamo un sacco di orettine ovviamente con il restante dell'elisire signori noi possiamo anche iniziare a farci vari murrettini abbiamo anche gli anellini quindi sfruttiamo anche quelli signori ovviamente cerchiamo di portarli tutti quanti a livello 13 che comunque ci sta che comunque è interessevole e dopodiché signori 800.000 ci fermiamo un attimino ci fermiamo un attimino ci facciamo un bel rinforzino magico dalla tesoreria un altro bel muretto ce lo sparamo proprio preciso preciso e siamo quasi pronti per farne un altro per prima cosa ci mettiamo un altro bel cannone a livello 17 da portare al 18 con 4 milioni ci abbiamo altri due costruttori ma non è solo questo perché ci abbiamo anche signori la rumettina dell'elisire ci abbiamo anche il martellino delle costruzioni che potrebbe essere interessevole magari vediamo un pochettino con l'elisire che ci abbiamo signori da poterci fare il gran sorvegliante la fabbrica degli incantesimi per dirvi potrebbe essere una buona spesa e potremmo sbloccare subitissimo anche l'ultimo incantesimo potrebbe non essere male o se no ancora meglio signori la caserma nera così sblocchiamo l'apprendista secondo me secondo me signori ci sta secondo me ci sta come cosettina ma facciamoci prima di tutto il nostro primo attacchino vediamo quante risorse ovviamente riusciamo ad accumulare cerchiamo di farne il più possibile perché così facciamo il murettino e poi magari riusciamo a mettere anche un'altra difesina con loro che comunque è interessevole secondo me e poi vediamo come si svolge il tutto allora questo qua ce ne ha un bel po' di risorse in realtà non è male da attaccare perché ha molte difesine aeree belle belle esterne quindi noi le raggiungiamo in teoria abbastanza in fretta se tutto va bene li estruggete quelle ma quanto siete brave vai spaccare tutto il resto signori ce le piazziamo qui sotto in basso con il sorvegliante abita tutti quanti gli eroi ha dietro la super mega furia in modo che ce le spinge belle 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 cattive so per volano che ci sta da un fastidio signori per volano maledetto duplicazione adesso che siamo belli centrali nel villaggino direi la duplicazione meglio di questa non l'ho mai messa in vita mia proprio precisa precisa e aspettiamo che le nostre mongolfiere distruggano tutto quanto anche se stanno un po' esplodendo qua e là in giro purtroppo non so se faremo le tre stelle ma non ci frega niente l'importante è che ci portiamo a casa tutte le risorse il TH non so se l'avete notato ma ci aveva praticamente uno sputo di vita quindi appena uno dei reali riesce a avvicinarsi al TH il TH esplode direi molto onesto stiamo un pochettino a vedere se questi nostri ragazzotti decidono di fare il giro giusto e andare verso il TH io attiverei la vita del re barbaro che ovviamente non è andata verso il TH mannaggia la sfiga signori perché se andava là lo colpiva probabilmente l'avrebbe buttato giù con niente va bene va bene va bene però la regina sta andando verso il re barbaro potrebbero andare contro il TH attenzione signori potrebbero andare contro il TH belli così c'è anche un bel pecchettino lì sotto che aiuta il re barbaro a spaccare i muri tanta tanta bella roba ci portiamo a casa l'astellina del TH con vari risorsini bello l'elisire signori ci lo portiamo quasi tutto l'oro ce ne sono rimasti due depositi qua sotto va bene purtroppo stanno lì in realtà l'attacchino abbiamo fatto un po' un po' così però a noi che ci frega le risorse comunque che ci servivano ce le siamo portate tranquillamente a casa tutte quante ottimo così signori il primo attacchino direi molto molto onesto in questo modo niente male noi ci possiamo fare anche già un altro bel muretino con l'elisire signori e poi possiamo procedere tranquillamente a fare un bel super mega riempi di elisire così abbiamo un bel pienone con 14 milioni ci mettiamo a fare signori avevamo detto la casermina nera che è quella che ce ne fa spiegare anche un pochettino di più ma secondo me interessante utilizziamo anche il bel libricino ci siamo 5 milioni e 200 mila di elisire sono precisi precisi per il sorvegliante in realtà non sarebbe male non sarebbe male però il sorvegliante signori stiamo sotto guerra quindi ci serve io direi che ci mettiamo a fare con l'elisire e a fare il deposito dell'elisire nero che comunque tanto prima o poi lo dobbiamo tirare su ci facciamo un altro attacchino probabilmente anche due così ci prendiamo le risorsine necessarie per la prossima costruzione che potrebbe essere anche l'ultimo cannoncino che abbiamo a 4 milioni e 8 che non è per niente male signori quindi penso che con un paio di attacchini ce la facciamo tranquillamente a portarcelo a casa speriamo di trovare un villaggione bello succulento tipo questo signori madonna che bello questo è veramente veramente molto sexy come villaggino quindi ce lo attacchiamo tutto da questo lato vai belle dirette così vai con il sorvegliante con la vita signori furiettina come se non ci fosse un domani belle passate sull'aigle brave super mega duplicazioni e signori aspettiamo semplicemente che il villaggio venga totalmente distrutto da queste super mongolfiere purtroppo sono rimasti pochissimi giorni per utilizzarle io già piango però va bene è bellissimo sono bellissime sono fantastiche sono fortissime le rimpiangerò per sempre però va bene poi ci metteremo a farmare ovviamente come al solito che abbiamo fatto anche dei video sul canale dateci un'occhiata se li volete cercare tattica segreta per il farming estremo tipo roba del genere mi pare si chiamava il titolo se mi ricordo ve lo metto in descrizione se no lo trovate sul canale tanto si riconosce comunque bello bello così siamo presi tutte le nostre risorse se noi ci fiamo un altro attacchetto di questo tipo un altro attacchetto di questo tipo in teoria noi ci abbiamo abbastanza cosettine per farci un pochino il tutto allora facciamo intanto un riempi ci siamo vicinissimi raga 400.000 400.000 signori ci portiamo a casa un altro bel cannoncino direi molto molto onesto ma prima di fare quello prima di fare quello io direi che un altro bel murettino con l'ellisire ce lo facciamo ce ne facciamo due addirittura signori direi di Cristo dagli e costi muri tanto che poi devo tirarli su le cosettine non sono pronte ma noi facciamo che ci frega facciamo così un bel jamming di quelli molto 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 cattivi direi che rimettiamo in addestramento le prossime truppettine siamo pronti per fare l'attacchino vediamo un po' gli eroi ci sono tutti la campionista no perché è morta va bene la campionista è anche evitabile in questo attacco qui più che altro il sorvegliante io signori il sorvegliante non mi ricordo mai dove sta non lo trovo mai sta nascosto da qualche parte signori sorvegliante dove si trova voglio vedere se è vivo se è morto facciamo così guardate guardate quanto è semplice gran sorvegliante madonna stava qua su in cima va bene nove gemmine ce le sprechiamo vabbè ma a sto punto facciamo così facciamo la spesa pazza ma che ci frega ci gemmiamo anche la campionista la curiamo e ci andiamo a cercare l'ultimo attacchino signori bello bello disonesto almeno con 400.000 d'oro che si trova facile facilissimo anzi così ci portiamo a casa anche l'ultimo cannoncino che ci deve sta da potenziarlo anche quello e direi che è molto molto interessevole 730.000 questo è il villagino non mi pare male c'è anche un milioncino dell'isir devo dire abbastanza onesto cerchiamo di attaccarlo magari nel modo migliore possibile e facciamo in questo modo belle belle così attiviamo l'abilità del sorvegliante vai perché la scuola tronchi non lo so però va bene lo stesso però va bene lo stesso belle belle dirette sopra all'altra difesa aerea vai passate sulla icola distruggete il municipio fate il panico più totale bello così signori bello così signori diretti diretti utilizziamo l'abilità del re barbaro così virocizziamo un pochettino le cose l'abilità della queen così virocizziamo ancora di più le cose ce ne stanno due no qua ce ne abbiamo soltanto due perché ancora non l'abbiamo portata a max piano piano faremo anche quello piano piano faremo anche quello anzi adesso ce le andiamo anche a controllare perché qualche abilità probabilmente la possiamo tirare su di livello qualcosina può essere che può essere che ce la possiamo alzare quindi valutiamo anche quello signori le tre stelline ovviamente stavo un attimo a un picciare strano strano non lo faccio mai le tre stelline siamo portate a casa 5 milioni e 300 mila ci bastano e ci avanzano signori direi che ci mettiamo ci mettiamo l'ultimo cannoncino 4 milioni 8 bello bello disonesto e andiamo a controllare un secondo le varie abilità degli eroi quale possiamo tirare su non possiamo tirare su ancora nulla mannaggia perché ci servono quelle viola perché ne mancano soltanto 100 vabbè dai più o meno più o meno tra un pochino le possiamo tirare su in realtà potremmo tirare su di un livello questo qua tutto moderno massimo che ce frega ce lo tirammo su signori bello bello così ovviamente attiviamo anche l'apprendista che c'è sta lo mettiamo sul deposito di ser nero così intanto velocizza un pochettino del tutto e poi abbiamo anche i bei posiocine del costruttore ce ne abbiamo due tre posiocine del costruttore che not bad signori e che dire per questo video penso che possa essere tutto ovviamente voglio invitarvi a lasciare tanti bei like di supporto per il video per il canalino e soprattutto anche per me grazie mille di tutto il supporto che mi state dando ultimamente signori voglio ringraziarvi all'infinito e un commentino che ho scritto cosa ne pensate di questa serie di questo video di come sta procedendo anche se a rilento anche il quarto account che piano piano ci diriamo un pochettino su scrivete quello che vi pare che a me fa comunque molto molto piacere inoltre voglio invitarvi a condividere il video con i vostri amici importantissimi signori perché più stiamo è meglio e soprattutto ad iscrivervi al canale perché ho visto che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti a voi non costa nulla a me fate un piacere enorme immenso se attivate anche la campanellina rimanete sempre aggiornati su tutti i video che vado a pubblicare regolarmente dal martedì al sabato tutti i giorni 14 e 30 puntuali sul canale mi raccomando signori se volete supportare il canalino qui sotto in descrizione o accanto al mio nome trovate il pulsantino per gli abbonamenti ci sono vari livellini vari prezzettini dateci un'occhiata che è molto molto interessevole se volete passare anche da instagram dove ogni tanto faccio una sorellina dove vi avverto che è uscito un nuovo video dove vi avverto che siamo in live vi ringrazio tutti i nuovi abbonati del canale e soprattutto ogni tanto facciamo delle sorelline di progetti futuri misici e misteriosi del canalino che sono molto molto interessanti e niente qui da Ciris e dallo spendi pazzo spendi tutto spendi tanti milioncini anche nel quarto account è tutto un salutore bella rega a Ciao